Il Consiglio Comunale di Pisciotta ha deliberato la presa d'atto del progetto definitivo dei lavori di ripristino e completamento della variante lungo la strada provinciale 447 e località Rizzico a Pisciotta. Si tratta dell'ormai trentennale frana che insiste sulla strada che collega i comuni di Ascea e Pisciotta. La pubblica assise ha anche votato la variante puntuale al PUC, un altro step che si aggiunge all'ampio puzzle già costruito per poter giungere a risolvere l'ormai nota questione della frana di Rizzico. Il cronoprogramma procede come data bella di marcia stabilita in un incontro che si tenne in Regione Campania alcuni mesi fa. Allo stesso erano presenti i consiglieri regionali Franco Picarone e Luca Cascone, il dirigente del settore viabilità ed infrastrutture della provincia di Salerno Domenico Aranesi, il sindaco di Pisciotta Ettore Liguori e il suo assessore ai lavori pubblici e urbanistica Antonio Greco.